Ciao, sono Tina e sono la consulente termocosmetica della farmacia di Nardo. Più volte vi ho parlato di quanto sia importante per la nostra pelle, che sia la pelle del viso o quella del corpo, effettuare degli scrub o comunque degli esfolianti durante la settimana. Oggi sono qui perché voglio darvi una piccola ricetta che potete fare a casa anche voi. Allora, basta utilizzare un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di olio d'oliva, due cucchiai di mandorle dolci e un cucchiaino di miele. Mettete tutto in un recipiente e mischiate tutti gli ingredienti andando a formare proprio una crema. Dopodiché, a viso ben pulito, mettete questa poltiglia che avete creato su tutto il viso e andrete poi a fare dei movimenti circolari in questo modo. Tutto il prodotto sicuramente vi cadrà, quindi fate questo in un lavandino dove avete poi comunque la possibilità di risciacquare bene il viso. Se poi volete effettuare uno scrub invece del viso che del corpo, potete utilizzare la stessa ricetta raddoppiando le dosi, ma invece di utilizzare l'unico ingrediente da cambiare è lo zucchero. Utilizzate invece il sale grosso. Un altro piccolo consiglio che vi do, ricordatevi sempre che dopo aver effettuato uno scrub la nostra pelle va nutrita, quindi non dimenticate di utilizzare una crema idratante o una crema abbastanza nutriente per il corpo. Ciao, a presto!